Si è riunito per la prima volta a Macerata il Consiglio di Amministrazione della neonata fondazione Marche Cinema Multimedia che ha assorbito al suo interno la Marche Film Commission e la Mediateca delle Marche, presiduta dal noto e popolare attore marchigiano Neri Marco Re. Presente all'incontro anche l'assessore regionale Pietro Marcolini, il direttore protempore Rolando Orsetti, la vicepresidente Stefania Benatti, Sandro Giorgetti, presidente della Mediateca Marche, Katia Ventura della provincia di Ancona, Andrea Nobili, assessore alla cultura del comune di Ancona, nonché il sindaco di Macerata Romano Carancini. La valorizzazione e la promozione del territorio attraverso il cinema è il primo obiettivo della fondazione. Marche Cinema Multimedia, qual è l'obiettivo di questa nuova realtà e che tipo di opportunità concrete potrà offrire per questo territorio? Beh, intanto cerchiamo di mettere insieme tre attività che si integrano l'una con l'altra. La prima è il Marche Film Commission e cioè l'attività di attrazione di produzione cinematografiche e televisione sul nostro territorio che valorizzi il patrimonio turistico basato sui beni culturali, sul patrimonio architettonico e paesaggistico della nostra regione. Il secondo blocco invece è la valorizzazione delle teche audiovisuali. Dall'84 la Mediateca regionale raccoglie per legge tutte le produzioni che vengono realizzate nelle Marche, da quelle della RAI a quelle delle produzioni delle televisioni minori e costituisce un patrimonio nella promozione e nella valorizzazione del nostro territorio fondamentale. Il terzo blocco riguarda la catalogazione di tutti i beni culturali regionali basati su biblioteche, pinacoteche, musei. Siamo già un patrimonio che ha schedato 240 mila opere distribuite nella nostra regione che diventano un patrimonio accessibile sulla rete mondiale. Google offre il contenitore e a caccia di contenuti stiamo negoziando anche la vendita di questi contenuti alle grandi reti di informazione perché ovviamente è importante essere in collegamento con il mondo. Abbiamo scoperto addirittura delle notizie sugli scavi archeologici di Monte Rinaldo del 58 in Germania o della documentazione su Castellone di Suasa in Inghilterra. Quindi ormai l'informazione di carattere mondiale. Questo terzo blocco riguarda appunto il confronto digitalizzato, informatizzato e distribuito in rete del nostro patrimonio culturale. Le tre cose riguardano la politica di valorizzazione dei beni culturali e anche di promozione economica e territoriale. La regione ha inteso fare qui il primo CTA, è un segno importante, è un'opportunità che ci potrebbe essere data. Bisognerà capire esattamente quali sono le condizioni ma certamente gli strumenti e soprattutto la mission che questa nuova società consente agli enti locali e soprattutto al territorio complessivamente credo che sia un aspetto da valutare. Noi abbiamo in particolare a Macerata una location naturale per tantissime ragioni, per il patrimonio culturale che abbiamo, per le caratteristiche della nostra città. Quindi quale miglior veicolo se non quello di poter eventualmente essere in questo progetto. E come dire, la testimonianza di questo primo CTA voluto a Macerata ci pare che sia un'indicazione significativa. Naturalmente avremo il tempo per poter ragionare tutti insieme e quindi decidere se adedire a questo progetto. Marche Cinema Multimedia, ne rimarco ora il Presidente. Una realtà per poter valorizzare sia il territorio ma non solo. Oggi un incontro a Macerata. Ci spieghi meglio quali sono gli obiettivi di questa realtà? Sì, questa è una struttura in qualche modo già esistente ma che ha una nuova vita, una seconda vita con la modifica, l'accorpamento della Mediateca Marche che diventa poi Fondazione Marche Cinema Commission. Questa è un'opportunità che ha vari possibili sviluppi, sicuramente quello della promozione del territorio, quello della creazione di posti di lavoro, quello dello sviluppo della cultura. Sono sempre risorse che in tempi di crisi vale la pena analizzare per capire quali possibilità ci sono. Questo è un vantaggio multiplo se si lavora in una certa direzione, così come poi altre regioni hanno fatto, appunto puntando sulla cultura e nello specifico proprio sull'arte cinematografica per far sì che poi questo territorio possa diventare una terra di accoglienza e in questo modo avere un vantaggio reciproco sia per le produzioni, sia per la nostra regione che insomma quindi usufruirebbe di una pubblicità già diretta. Per il 2012 ci sono dei progetti, delle proposte di produzioni che vorrebbero girare appunto in territorio marchigiano e poi la valutazione in termini proprio diciamo economici, finanziari la valuteranno gli altri. Io per quanto mi riguarda ho espresso alcune mie posizioni sull'opportunità di sostenere insomma alcuni progetti specifici sempre nell'obiettivo che ci siano vantaggi reciproci e quelli di cui un po' parlavo prima.